La donna non è degno di essere chiamato uomo, è con questo impegno per le donne che voglio fare gli auguri a Lucia, perché il suo esempio e il suo coraggio servono a tutti noi per compiere fino in fondo il nostro dovere. La ringrazio, è scritto a parlare l'onorevole Duvane a facoltà. Io non invidio chi siede sullo scranno più alto, in questo caso è lei, ma in generale la Presidente Boldrini, perché quest'anno è molto difficile da gestire. Nelle legislature passate non c'ero e non ho un termine di paragone, ma sicuramente quello che per anni si è definito la sinistra, chi per anni si è definito la destra, oggi sono assieme, chi è all'opposizione, che può essere SEL, che è qua dentro grazie all'alleanza con chi oggi è la maggioranza, ci sono questi ragazzetti del Movimento 5 Stelle che vorrebbero rispettare tutte le regole, non è facile. Però una cosa certa è che quando il Presidente Boldrini si è insediato e ha fatto il suo discorso, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo valutato i fatti, abbiamo valutato le parole del Presidente Boldrini e ci sono piaciute tanto e ci siamo spellati le mani ad applaudirla, perché riteniamo il Presidente Boldrini un'ottima persona che si è distinta prima del suo lavoro istituzionale per il suo impegno, però dobbiamo anche valutare i fatti. Quello che ha fatto il collega Iannuzzi non è stato chiedere le dimissioni e c'è uno stenografico che l'indomani ci permetterà di appurare quanto dico, ha semplicemente detto che noi del Movimento 5 Stelle in questo momento non sentiamo un certo atteggiamento super partes della Presidenza, è una cosa che noi sentiamo, abbiamo avvertito questo, noi chiediamo semplicemente al Presidente Boldrini senza nessun tipo di attacco strumentale di garantire tutte le parti. Quello che dice Iannuzzi non era si dimette, ha detto se per caso non si adesse sentire non si faccia problemi a dimettersi, che è una cosa molto diversa perché le parole hanno un peso. Quindi il Presidente la ringrazio e prego di riferire al Presidente Boldrini quanto ha detto. La ringrazio, ovviamente il Presidente Boldrini avrà anche la possibilità di leggere lo stenografico. Onorevole Bonanno, prego. Sì, signor Presidente, guardi, io non sapevo dell'intervento della collega del PD che ha fatto poc'anzi dicendo la storia di chi, anch'io ho letto l'intervista di quella signora che ha subito quella via l'aggressione ed è ovviamente in una fase molto delicata e ha avuto il coraggio di far vedere il proprio viso. Però proprio ieri, io volevo fare l'intervento, poi lei sa che era uscito un attimo e quando sono tornato non ho potuto poi intervenire, quindi non è premeditato, ho letto un'agenzia che mi ha lasciato stupito. Noi abbiamo votato la cosiddetta svuota carcere. Abbiamo detto che lo stalking era una cosa che ci è stato spiegato che non avrebbe, diciamo così, impattato sullo svuota carcere. Invece ieri ho letto un'agenzia dove una certa Simona Cristiano, mandante di un'aggressione con l'acido muriatico verso il suo ex fidanzato qua a Roma, a Torpignattara, rispetto a chi è l'esecutore, Salvatore Lopiccolo, cioè Salvatore Lopiccolo ha buttato dell'acido muriatico in faccia all'ex moroso fidanzato di questa Simona Cristiano. E cos'è venuto fuori? Che il giudice ha deciso, tutti e due infermieri, sia chi ha subito l'acido muriatico e sia la sua ex fidanzata, ed è venuto fuori che il giudice ha deciso che l'unica cosa che si poteva fare è la non dimora a Roma sia del mandante che dell'esecutore. Ora, se questo è il provvedimento dello svuota carcere, se questo è la difesa di chi subisce lo stalking, io rimango, come si era già detto, allibito. In più, voglio aggiungere quello che ho sentito poc'anzi e chiudo il mio mini-intervento. È giusto difendere le donne dallo stalking? Sappiamo tutti che credo il 95% di quello che è questo reato viene subito dalle donne. Però non mi pare giusto